aiuto babbo le cose stanno degenerando inesorabilmente ogni video che passa vabbè allora benvenuti per quanto io sia sempre meno credibile al nuovo e ultimo video dei regali di natale dal vostro babbo nero diventato oggi babbo bianco babbo bianco se riesco a non soffocare ma dalla fine del video arriviamo allora questo è il video finale dei regali di natale in cui andiamo agli under 100 euro con un ex mamma mia con un con un non ce la posso fare allora dunque il primo su babbo su vado il primo il primo oggetto scelto per voi è la fallout special edition o preso da tavolo questo ve lo ricordate l'allegro chirurgo ecco applicato a fallout è una delle cose più malate che abbia mai visto però sembra tanta roba per cui dargli un'occhiata se vi piacciono gli allegri chirurghi e non avete paura di andare sotto i ferri io sto soffocando aiuta facciamo senza barba non ce l'ho non ce la posso fare sto soffocando mamma mia è terribile come fanno quelli che fanno babbo natale a natale le grandi domande allora la barba è vera la barba è vera giustamente beh non per tutti comunque allora mi sta calando la barba la seconda cosa è una chicca che io sto pensando di regalarmi ovvero resident evil il t virus col vaccino c'è la replica vera e propria dimensione naturale scala uno a uno del virus t e del relativo vaccino volete far prendere un colpo ai vostri familiari potete farlo con questo che poi sarete pronti ad ogni tipo di ci avete pure il vaccino 50 euro per il vaccino lo so ecco anche perché poi dopo non si trova è appunto comprateli finché ci sono babbo permette ho tutta ho tutta la barba in bocca aiuto bene grazie sembra che ho il mantello sulle orecchie la prossima la prossima cosa sono gli scacchi di fallout lei meno male che lei ride gli scacchi di fallout che sono meravigliosi e riusciamo a essere seri c'è tutti capito niente pure al kogan adesso è una scacchiera molto bella devo dire anche questa è merchandising ufficiale di bethesda per cui se volete finanziare altri prodotti come fallout 76 potete chiamate poi il gioco di scacchi è molto molto bella l'ho trovata una delle scacchiere più belle tra quelle videoludiche si guidate di un occhio io non sento più da un orecchio poi ecco si reduci dalla brutta delusione della playstation classic vi segnaliamo il super nintendo nintendo classic mini è decisamente meglio sotto ogni punto di vista sia per quanto riguarda l'emulazione in generale ha anche un gioco in più rispetto alla playstation classic perché sono 21 tra le mini console è forse la più riuscita quindi dategli un occhio in caso e vi segnaliamo visto che ci siamo anche l'altra che è il nes il mini nes questo ha un prezzo più basso a livello qualitativo forse un po inferiore rispetto all'altra al mini snes però insomma se volete farvi un regalo consapevole di mettervi in tasca qualcosa di valevole 30 giochi per dei grandi classici della tua parte a parte ridermi in faccia non stai contribuendo è bello perculati anche a natale poi la skyrim library allora questa ve l'ho consigliata pure l'anno scorso se non sbaglio che è praticamente un set di tre volumi in cui sono racchiusi tutti i testi di skyrim ma allora questo è ma poi è dall'anno scorso che l'hai consigliata e non me lo so e ancora me la devo prendere infatti non ho avuto tanto c'è gli intarsi in in carta quella fintantica la cosa di qualità c'è la miseria di qualità è veramente enorme ma poi sembra che ho delle orecchie che non ho perché io non ho le orecchie così ma anche nell'altro video quando mi sono rivisto sembravo dumbo va beh allora poi abbiamo the art of metal gear solid dall'1 al 4 85 euro per uno dei dei documenti più belli che ci siano sulla faccia della terra ma questo l'ho visto di persona qui garantisco sulla bontà del del della qualità del prodotto del prodotto è veramente bello io non capisco perché si ostinino a non mettere foto ma vi assicuro che è veramente ben fatto per cui se siete amanti di metal gear datevi una chance perché veramente è uno di quei regali che farebbero felici tutti gli amanti della saga poi abbiamo l'enciclopedia di zelda anche qui parliamo di un documento molto bello di un prodotto molto curato sotto il punto di vista del confezionamento dei materiali cioè è veramente molto molto bello e al suo interno troverete parecchie informazioni purtroppo anche questo è solamente in inglese ma in italiano non traducono una cippa ormai nei giochi né niente né niente e viene venduto pure insieme a quello che abbiamo fatto vedere l'altra volta volendo poi la mela dell'eden questo per trovarla ci ho messo non sapete quanto però è la replica esatta ovviamente si vede benissimo il pom il pom de den le pom de den poi scusa se tu zoom la foto si vede lo stesso se io zoom la foto è più piccola rispetto a quando la vedevo da fuori quindi è la meraviglia sanno vendere le cose con una qualità che te fanno passare la voglia però 54 euro per un oggetto che specialmente per coloro che amano fare i cosplay quelli dove si traveste no i cosplay i cross poi abbiamo gli scacchi di zelda che sono altrettanto belli secondo me ancora più belle di quelli di fallout perché il confezionamento sembra questo fintottone fintottone tutto attaccato fintottone che è molto bello poi non so se effettivamente di metallo cerchiamo di capire di che materiale è fatto il tutto non ce lo dicono plastica scacchiera quindi figure vinile che vuol dire figure vinile vabbè comunque è bello costa 60 euro se vi piace è un gran bel regalo per gli amanti di zelda questo l'abbiamo fatto vedere prima il nintendo classic mini poi abbiamo ecco la le bobbleheads serie 3 sono in totale 6 abbiamo scelto questa perché diciamo che racchiude il mio stato d'animo quando penso a fallout in questo periodo il bobblehead il pupazzo e poi il pupazzetto è quello cerca di fare dei video un po culturalmente elevati per trasmettere un certo air pupazzetto ecco tutto si racchiude vedi air pupazzetto bene passiamo corsi ringone corsi il pupazzetto corsi ringone ecco benissimo 54 euro poi il gioco da tavolo di the sword of mine allora questo è una chicca che mi ha consigliato un amico che ringrazio grazie francesco perché è veramente cioè ricrea il concept del gioco ma di persona per cui tra i giochi da tavolo dedicati ai videogiochi è tra quelli più belli di cui mi hanno parlato per cui ve lo consiglio indirettamente tanto è valutato anche molto bene per cui gli amanti sapranno apprezzare poi abbiamo la capoccia di master chef indossabile dimensione medium per cui se avete la capoccia come la mia credo che non vi entri no a parte scherzi 98 euro costa un po ma ripeto per chi ama fare cosplay smettiamo di inquadrargli i peli dietro la capoccia per chi ama fare cosplay è veramente ben fatta e ne parlano anche molto molto bene perché 219 recensioni sono quasi tutte a 5 stelle per cui quelli che hanno votato poco è perché non gli entra in testa temo poi l'ultima le ultime due cose da segnalarvi sono il gioco da tavolo di fallout per cui ringrazio in questo caso particolare il mio amico madmerc perché me l'ha consigliato lui e ne ha parlato molto bene io vado a fiducia totale è un gioco da tavolo di cui non dicono nulla però non è il solo averne parlato bene a dire la verità adesso che l'ho visto ho ricollegato e datemi un'occhiata insomma io non è che sia un grande esperto giochi da tavolo io conosco il monopoli erisico di base ma mi sto aprendo e cluedo ma mi sto aprendo anche a tante altre cose per cui ci stiamo facendo un pensiero noi per natale e chiudiamo con la chicca qui si va oltre i 100 euro ma era doverosa la statua di colombia allora qua parliamo di 340 euro di statua così a dopo natale per cui a natale non ce l'ha fatta ad averla solo tre ne sono rimaste ma ne parlano molto bene non solamente qua su amazon ma anche fuori perché appunto prima di consigliarvi una cosa da 3 piotte e mezzo mi sono documentato un minimo è veramente meravigliosa io se avessi 339 euro da buttare un pensiero ce lo farei so che è proprio una cosa per malati irriducibili di bioshock però io ve la segnano poi fate voi anche perché di cose così caratteristiche se ne vedono veramente poche di appassionati con le stesse so che ce ne sono parecchi fra di voi spero possa esservi utile qualora non la conosciate già detto ciò noi vi ricordiamo che in descrizione trovate tutti i link ai prodotti mostrati che ci darebbero in caso di acquisto un piccolo profitto senza nessun sovrappresso da parte vostra vi ricordiamo che ci sono gli altri due video con i regali di natale con taglio più piccolo dentro i 50 euro e dentro i 25 segnalateci e segnalatevi e segnalate a tutto quanto il gruppo eventuali cose che reputate interessanti per natale io credo che con questo possiamo salutarci per quanto riguarda le proposte di amazon intanto che io mi massaggio il mio nuovo codino vediamo appuntamento insomma alla prossima ci vedremo per salutare il natale per salutarci ma insomma le cose sulle vendite finiscono qua speriamo di avervi insomma dato qualche buona idea buon natale in anticipo buon shopping e alla prossima ciao buon natale in anticipo buon natale a tutti i 1